ben trovati ben trovati ancora in questo nuovo video vogliamo riprendere il nostro argomento il nostro studio intorno al libro dell'apocalisse ed è per me veramente una gioia poter continuare veramente la meditazione di questo libro insieme con voi siamo arrivati a un momento veramente particolare molto molto forte ovvero la battaglia di armageddon è praticamente la seconda sezione del capitolo del capitolo 19 del libro dell'apocalisse e in questa sezione veramente posso potremmo vedere la distruzione la completa disfatta della malvagità umana abbiamo iniziato a vedere vero la volta scorsa le nozze dell'agnello quindi questo evento così straordinario che si verifica nel cielo queste nozze che praticamente saranno l'evento culminante sono l'evento culminante da un punto di vista profetico e scatologico perché naturalmente prima che ci sia vero questa questa battaglia è assolutamente importante che ci sia appunto questo evento così gioioso e così straordinario e sicuramente in questa sezione che inizieremo a vedere dove più che altro in questo in questa live in questa diretta ci focalizzeremo su quelle che sono le caratteristiche che la scrittura sottolinea ed evidenzia nei confronti del signore gesù ovvero nei confronti del generale vittorioso del generale trionfante così sicuramente possiamo chiamarlo e definirlo il signore gesù perché è il vincitore sa e sarà il vincitore indiscusso appunto di questa battaglia ne approfitto intanto per salutare coloro che si stanno collegando un saluto a tonina pisano grazie tonina di essere con noi a silvia sandoni e ad anna irittu grazie di esservi collegati in questa live non tanto annunciata in anticipo ma preferisco ecco dare un breve si preavviso ma quando sono sicuro di poter fare le live perché è brutto dare degli anticipi e poi non poter fare una diretta per un motivo o per un altro e anna scrive ciao andrea dio benedica l'ascolto della sua parola veramente abbiamo bisogno della guida e del sostegno dello spirito santo allora in questa in questa sezione vedremo appunto il versetto 11 il versetto 11 di apocalisse 19 ci presenta proprio quelle che sono le qualità e le caratteristiche menzionate riguardanti appunto questo cavaliere il cavaliere dal cavallo sul cavallo bianco ed è scritto così in apocalisse 19 11 poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero perché giudica e combatte con giustizia quindi possiamo dire che l'inizio di questo di questo brano già si indica direi in un modo assolutamente chiaro come poi andranno gli eventi vero perché di fronte ad un cavaliere del genere ad un cavaliere con simili qualità veramente non si non c'è partita per usare un una terminologia sportiva ma andiamo con ordine si tratta vero di una visione di una visione che ha futuro di qualcosa che deve avvenire che ha sia un aspetto sicuramente doloroso ovvero la sconfitta dell'uomo poi vedremo anche in che modo si verrà a verificare il tutto ma dall'altro lato ed è ciò che per ogni figlio di dio deve essere motivo di gioia e di allegrezza poter verificare poter leggere nero su bianco che il signore gesù appunto trionferà in questa in questa battaglia allora iniziamo a vedere appunto queste qualità che vengono menzionate in questo semplice versetto allora dopo la celebrazione vero delle nozze dell'agnello possiamo proprio notare come il libro dell'apocalisse sottolinea ed evidenza questo meraviglioso e solenne evento cioè prima ancora di parlare della battaglia di armageddon si parla dell'apparizione della manifestazione visibile di questo cavaliere appunto il cavaliere sul cavallo bianco e naturalmente dobbiamo precisare l'abbiamo già detto ma ci tengo a sottolinearlo ancora che non vi è nessunissimo legame con il primo cavaliere di apocalisse 6 2 sebbene vi siano sicuramente delle similitudini non si tratta dello stesso cavaliere se vi ricordate quando abbiamo parlato appunto dell'apertura dei primi quattro sigilli che abbiamo in apocalisse 6 subito noi incontriamo questo cavaliere particolare ma abbiamo visto sì le similitudini ma anche le forti differenze che ci sono tra quel cavaliere e il cavaliere che noi abbiamo qui in apocalisse 19 quindi vi rimando al video che dove proprio ho trattato ecco l'apertura di questi quattro sigilli abbiamo visto quando abbiamo commentato quando ho commentato apocalisse 6 che quel cavaliere era un falso cavaliere c'è un falso vincitore ma in questi versetti via apocalisse 19 possiamo veramente notare chi sia il vero vincitore quindi chi ven vincerà la partita chi vincerà questa battaglia ovvero il signore Gesù in gloria il signore Gesù glorioso non abbiamo più il signore Gesù in una veste sacrificale non abbiamo più il signore Gesù in veste di agnello che toglie il peccato del mondo questo è avvenuto una volta per sempre come sappiamo ma qui ci troviamo di fronte alla manifestazione in gloria del signore Gesù e quindi quali sono le queste qualità che vengono appunto menzionate in questo capitolo 19 allora abbiamo i primi due appellativi i primi due appellativi che vengono dati a questo cavaliere sono due appellativi che appartengono solo a dio appartengono solo all'eterno degli eserciti a Yahweh all'unico e vero di ovvero il fedele e il verace in geremia capitolo 42 versetti 4 6 testo che potete leggere alla vostra sinistra è scritto così e il profeta geremia disse loro ho inteso ecco io farò preghiera al signore dio vostro come avete detto e dio vi rapporterò tutto ciò che il signore vi avrà risposto io non ve ne celerò nulla ed essi dissero a geremia il signore sia per testimone verace e fedele tra noi se noi non facciamo secondo tutto ciò che il signore dio tuo ti avrà mandato a dirci o bene o male che sia noi obbediremo alla voce del signore dio nostro al quale noi ti mandiamo affinché bene ne avvenga quando avremo ubbidito alla voce del signore dio nostro allora gli interlocutori che parlano con il profeta geremia rivolgono avete letto una dichiarazione soledda essi prendono come testimone il signore ed era un fatto non raro nell'antico testamento cioè si usava prendere il nome di dio come testimone ma fermo restando che se si fosse preso il nome del signore il dio per una menzogna sicuramente ci sarebbero pagate le dovute conseguenze vi ricordate che uno dei dieci comandamenti è appunto non nominare il nome di dio in vano e quale modo più grave c'è nel nominare il nome di dio in vano quando lo si prende come testimone per una menzogna e abbiamo visto abbiamo letto appunto in questo brano come questi personaggi definiscono il signore cioè si prendono come testimoni il signore definendolo verace e fedele ovvero colui che è è caratterizzato sempre e comunque dalla fedeltà e dalla verità e chi pronuncia queste parole sono come noi leggiamo nel versetto 1 sempre di geremia 42 la gente di guerra johanan e azzaria i quali nello stesso tempo si impegnano ad ubbidire al signore qualunque cosa dio avesse detto abbiamo letto sia bene e sia male noi faremo ciò che dio dirà questo purtroppo e non mi voglio dilungare in questo perché stiamo studiando apocalisse 19 ma il tutto purtroppo è smentito poi nel capitolo successivo cioè in geremia 43 ma ciò che ci deve interessare per quanto riguarda l'esegesi di apocalisse 19 e questo versetto appunto nel versetto 11 è proprio il connubio esistente tra la fedeltà e la verità che sono assolutamente connessi alla persona di dio ecco questo è veramente molto molto importante anche nella seconda lettera ai testalonicesi capitolo terzo e versetto 3 l'apostolo paolo dice ora il signore è fedele il quale vi raffermerà cioè vi renderà salvi e vi guarderà dal maligno quindi la fedeltà del signore vedete non è confinata solamente sull'adempimento della sua parola ma anche sul suo soccorso anche sul suo aiuto su quell'aiuto che dio fornisce sempre ai suoi figli egli è colui che dà forza egli è colui che rafferma è colui che rende saldo è colui che fortifica che rende stabili i suoi figli ed ecco perché dobbiamo ammettere che quando il nostro cammino è un cammino di fedeltà un cammino che profuma di cristo un cammino che trasuda quel frutto che lo spirito santo produce nella nostra vita non è merito nostro ma è solo merito di di è solo merito del signore il quale ci fortifica ci rende stabile ci aiuta e ci rende fermo e anche l'apostolo paolo vedete nella seconda nella sua seconda lettera appunto l'epistola del commiato come io la chiamo personalmente dice paolo certa è questa parola che se moriamo con lui con lui anche vivremo se perseveriamo con lui altresì regneremo se lo rinneghiamo egli altresì ci rinnegrà se siamo infedeli egli pure rimane fedele egli non può rinnegare se stesso direi che queste sono esortazioni estremamente estremamente importanti che richiamano veramente alla nostra responsabilità vedete vivere la vita cristiana non significa soltanto aderire ad una dottrina ad un insieme di regole a conoscere perfettamente ciò che insegna la teologia la cristologia e via dice ma significa camminare come cristo ha camminato ed ecco perché paolo ci esorta alla perseveranza l'abbiamo letto troppe volte vedete ci si lascia andare sicura il rischio di diventare soltanto dei formalisti e quindi dobbiamo stare molto molto attenti perché vedete la perseveranza è una caratteristica assolutamente importante che ogni figlio di dio deve possedere direi che fa parte proprio della carta d'identità di ogni cristiano della carta d'identità di ogni figlio di dio nello stesso tempo però visto e considerato che dio conosce molto bene perfettamente le nostre miserie di imperfezioni paolo si affretta a precisare che se noi siamo infedeli egli rimane fedele in altre parole vedete egli non si lascia in alcun modo ostacolare da quelle che possono essere le nostre infedeltà in secondo luogo abbiamo sempre letto in apocalisse 19 11 che il signore gesù è definito il verace ovvero colui che è la verità e questa è sicuramente un'altra caratteristica di dio soltanto dio si può definire metà ecco perché in deuteronomio capitolo 7 e versetto 9 è scritto conosci dunque che il signore dio tuo è dio questa è una parte della scema quella che è chiamata la scema di israele no ovvero ascolta israele il signore dio tuo è l'unico dio e sempre in deuteronomio 7 9 il testo riprende dice l'idio verace che osserva il patto e la benignità in mille generazioni verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti questo vuol dire che solo dio è vero solo dio è verace solo dio è verità e ciò che lui afferma ciò che lui promette ciò che lui dichiara sia in bene sia in male lo mantiene e una chiara dimostrazione di questo l'abbiamo con la battaglia di armagedo l'uomo per secoli per millenni si è sbeffeggiato di dio l'uomo ha voluto fare a meno del signore e questo noi lo vediamo ancora di più in questi tempi in questi periodi che noi stiamo vivendo dove tutto noi vediamo tranne che il timore nei confronti del signore ma possiamo essere certi i miei cari che il signore farà giustizia e la battaglia di armagedon o armageddon è proprio la dimostrazione di tutto questo egli è il signore che osserva il patto e la benignità in mille generazioni vuol dire che lui è fedele a ciò che dice lui osserva i patti nella bibbia abbiamo almeno otto patti e lui li osserva perché lui è se possiamo dire è la persona più seria che ci sia è colui che verso il quale possiamo nutrire una pienissima fiducia gli uomini ci possono ferire ci possono deludere e noi possiamo deludere gli altri sicuramente ma il signore non potrà mai deluderci ed ecco perché la parola di dio insegna che la verità non è in una religione quante volte lo abbiamo detto e dobbiamo continuare a dirlo a coloro che ci stanno intorno la verità non è una religione non è un insieme di regole ma la verità è cristo Gesù è la persona stessa di dio ed è la persona del signore Gesù che veramente poteva dire io sono la via la verità e la vita nessuno viene al padre se non per mezzo di me ancora nel salmo 19 e versetto 7 dice dice il salmista la legge del signore è perfetta è la ristora l'anima la testimonianza del signore del signore è verace e rende sabio il semplice gli statuti del signore sono diritti che allegrano il cuore il comandamento del signore è puro ed illumina gli occhi direi che anche queste sono parole veramente assolutamente straordinarie e naturalmente vedete se dio è verace se dio è verità ovviamente lo è anche la sua parola non possiamo disgiungere vero quella che è la persona di dio da quella che è la sua parola ed è questa proprio la consapevolezza che ha il salmista il quale dichiara la testimonianza del signore è verace questo significa vedete che il nostro orecchio spirituale deve essere sempre sempre incline alla voce del signore queste qualità che abbiamo in apocalisse 19 non sono lì solo per introdurre l'argomento della battaglia di armario ma sono lì per ricordarci che il dio che noi adoriamo il dio che noi serviamo il signore gesù che noi adoriamo e serviamo è colui che fedele verace quindi queste qualità devono avere un riscontro un chiaro riscontro nella nostra nella nostra vita come dio quindi è verace come dio è verità ovviamente anche il signore gesù lo è tant'è che in apocalisse 3 7 alla chiesa di filadelfia il signore gesù in persona dice queste cose dice queste cose dice il santo il verace colui che ha la chiave di davide il quale apre e nessuno chiude il quale chiude e nessuno apre chi parla qui appunto è il signore gesù in persona ed è lui stesso è lui stesso che si definisce il santo e il verace ed è lo stesso appellativo che appunto noi troviamo in apocalisse 19 un'altra caratteristica che abbiamo sempre in apocalisse 19 11 è una caratteristica che già noi abbiamo visto se vi ricordate in apocalisse 1 ovvero quando il signore gesù e quando il signore gesù si presenta sotto forma di visione di visione gloriosa all'apostolo giovanni i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco ed è interessante proprio osservare che questa particolare espressione che noi abbiamo qui ovvero fiamma di fuoco è connessa a che cosa può essere connessa a tante cose a tanti aspetti ma direi che il contesto che abbiamo qui in apocalisse 19 questa espressione può indicare solo una cosa ovvero l'ira e l'indignazione del signore anche in isaia capitolo 30 e versetto 30 31 a proposito della siria è scritto il signore farà udire la maestà della sua voce e mostrerà come egli colpisce con suo braccio nell'indignazione della sua ira e con fiamma di fuoco divorante con scoppi con nembo e con pietre di grandine poiché assur che solleva percuotere con il bastone sarà fiaccato dalla voce del signore quindi nel parlare del giudizio contro la siria il signore dichiara senza mezzi termini che la sua ira sarà di più la sua ira se manifesterà con parole antropomorfiche egli colpisce col suo braccio nell'indignazione della sua ira e con fiamma di fuoco divorante e direi che questa particolare espressione rende molto bene il pensiero dell'ira di dio il pensiero dell'ira del signore e secondo il contesto di apocalisse 19 possiamo proprio osservare che questo sublime cavalier il signore gesù giunge proprio per giudicare gli empi perciò si può ben spiegare questa speciale rivelazione intorno agli occhi come fiamma di fuoco proprio grazie al contesto che noi abbiamo in apocalisse 19 ripeto questa è un'espressione che troviamo anche in altri contesti come anche in apocalisse 1 13 dove appunto sempre in merito a questa visione che gesù darà a giovanni è scritto in mezzo a quei sette candelieri uno simile ad un figlio d'uomo vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del seno e il suo capo i suoi capelli erano candidi come lana bianca come neve e i suoi occhi somigliavano rassomigliavano ad una fiamma di fuoco quindi questa è una descrizione che già abbiamo avuto modo di vedere una descrizione che appunto sottolinea la gloria e lo splendore del figlio d'uomo del signore gesù quindi quando egli si manifesterà quando egli apparirà quando giudicherà gli empi possiamo veramente dire che la sua ira l'ira dell'agnello si sarà manifestata completamente dice scrive tonina pisano la parola di dio ci fa vivere assolutamente tonina anche silvia commenta e dice bellissimi insegnamenti tonina prima ha scritto l'argomento è importantissimo grazie andrea buon pomeriggio dio ti benedica è un argomento sicuramente profetico e scatologico assolutamente importante silvia commenta è bene non cadere sotto l'ira di dio dato che il suo amore è magnifico esattamente silvia quindi visto che il suo amore magnifico lo è anche la sua la sua ira e rosalia grazie rosalia di esserti collegata scrive buongiorno a tutti voi un buongiorno anche a te rosalia allora proseguiamo e vediamo un altro dettaglio molto importante che abbiamo nel versetto 12 di apocalisse 19 un particolare dettaglio ovvero che questo cavaliere che noi abbiamo qui porta scritto un nome che nessuno conosce se non lui un nome misterioso potremmo dire perché questo nome lo conosce solo il signore gesù e questo particolare rivela proprio l'autorità e la grandezza suprema del signore gesù è un'espressione che ci parla della sua grandezza che ci parla della sua suprema autorità il nome del signore gesù raggruppa tutte le sue qualità e raggruppa tutta la sua persona tant'è che in atti 4 quando pietro e giovanni si trovano davanti a sinedrio essi dicono sia noto a tutti voi a tutto il popolo di israele che ciò è stato fatto nel nome di gesù cristo in nazareno che voi avete crocifisso e il quale dio ha suscitato dei morti in virtù di esso compare quest'uomo in piena sanità in presenza vostra esso è quella pietra che è stata da voi edificatori sprezzata la quale è diventata il capo del cantone o pietra angolare e nessun altro è la salvezza perché non vi è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per il quale possiamo essere salvati quindi l'apostolo pietro è assolutamente categorico non vi è altro nome non vi è altro nome che sia stato dato agli uomini per essere salvati il nome del signore gesù è potente in salvezza è potente nel salvare non esiste altro nome che può dare vero salvezza e ancora l'autore della lettera agli ebrei proprio all'inizio della sua lettera dichiara il quale qui si parla di gesù essendo lo splendore della gloria e l'impronta della sussistenza di lui e portando tutte le cose con la parola della sua potenza dopo aver fatto per sé stesso la purificazione dei nostri peccati si è posto a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi essendo fatto di tanto superiore agli angeli quanto egli ha ereditato un nome più eccellente di loro vedete che anche qui si parla del nome del signore gesù e questo testo che descrive in modo chiaro direi la perfetta deità di cristo e la sua autorità ebbene è scritto tra le altre cose che gesù ha ereditato un nome più eccellente degli angeli potremmo dire il nome perfetto egli si è fatto uomo si è umiliato ci ha purificato da ogni peccato ma abbiamo anche letto che nello stesso tempo si è seduto alla destra di dio egli è lo splendore della gloria del signore esattamente come il sole non può esistere senza i suoi raggi solari e raggi solari non possono esistere senza il sole qui proprio noi abbiamo questa immagine della gloria di dio come il sole ed il signore gesù ne è lo splendore quindi abbiamo una sinergia assoluta e piena quando noi leggiamo il brano di filippesi 2 che potete leggere qui si presume che anticamente queste parole facevano parte di un inno cristiano questa da un punto di vista teologico è chiamata la kenosis di cristo vero la sua umiliazione ma abbiamo anche il suo un per upso in greco ovvero il suo sovrano innalzamento ed ora noi leggiamo in filippesi 2 6 queste parole il quale essendo in forma di dio non reputò rapina l'essere uguale a dio ma pure anichilì se stesso prese forma di servo fatto la somiglianza degli uomini e trovato nell'esteriore simile ad un uomo abbassò se stesso essendosi fatto ubbidiente fino alla morte e la morte di croce per la qualcosa ancora dio lo ha sovranamente innalzato egli ha donato un nome che è sopra ogni nome affinché nel nome di gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti terrestri sotterrane e che ogni lingua confessi che gesù cristo è il signore alla gloria di dio padre ricordiamoci miei cari che il signore gesù si è volontariamente abbassato ma non abbiamo la più pallida idea di che abbassamento sia stato perché non possiamo immaginarci dio che si fa uomo ma non solo dio che si fa servo delle creature qualcosa che noi non possiamo capire gesù si è abbassato volontariamente ha annientato svuotato si è svuotato completamente prendendo forma di servo di servo e uomo ma dio padre abbiamo anche letto lo ha sovranamente innalzato e qui abbiamo in greco un termine che è estremamente forte estremamente forte vuol dire esaltato oltre ogni immaginazione esaltato oltremoto e giungerà il tempo giungerà il tempo nel quale ogni ginocchio ogni ginocchio dovrà piegarsi davanti a gesù le nostre ginocchia si piegheranno ma per chi è un figlio di dio sarà un evento di gioia ma per un empio no per chi non ha riposto la sua fede nel signore gesù sarà un momento tragico perché dovrà riconoscere sì il signore gesù come signore alla gloria di dio ma per lui sarà purtroppo troppo tardi pertanto ogni ginocchio si piegherà davanti al signore gesù confessando la sua signoria confessando che egli è veramente il signore pertanto egli manifesterà e renderà visibile tutta la sua autorità come informazioni bisogna appunto precisare che il cavaliere che era sul cavallo bianco nella storia indicava appunto quel cavallo il cavallo bianco che ai tempi dell'impero romano era cavalcato dal generale vittorioso ovvero quando un generale tornava vittorioso da una battaglia era solito che lui cavalcasse un cavallo bianco un cavallo possiamo dire può che e con questo cavallo andava davanti all'imperatore per essere poi onorato dall'imperatore stesso quindi visto e considerato che ci sono nel libro dell'apocalisse parecchie analogie con l'impero romano con ciò che accadeva storicamente ai tempi dell'impero romano io credo che lo spirito santo non abbia scelto il cavallo bianco di colore bianco come così ma lo abbia scelto proprio per il significato che questo cavallo ha ovvero un cavallo che ci parla di vittoria e che ci parla di trionfo assoluto pertanto miei cari termino qui questo a questa diretta per me è stato veramente un onore un piacere poter rimanere ancora con voi poter essere con voi e se il signore vorrà riprenderemo dal prossimo video dove noi ci siamo fermati e dal prossimo video entreremo ancora di più nel vivo di questa battaglia di questo evento così particolare così straordinario che segnerà appunto la disfatta completa già babilonia è caduta sistema economico sistema religioso cadranno anche gli eserciti tutti quegli eserciti che andranno contro il signore gesù che andranno contro il popolo di israele quel popolo di israele che avrà riconosciuto nel signore gesù il suo il suo messia e vedremo che cosa accadrà nello specifico appunto nei versetti che seguiranno che il signore veramente vi benedica saluto tutti coloro che si sono collegati in questa diretta grazie veramente per il vostro affetto e come dico sempre ormai lo sapete la parola di dio che possa veramente rimanere scolpita nel nostro cuore e nella nostra mente che sia così per me che sia così per te e che sia così per ciascuno di noi vi aspetto al prossimo video se dio buona ciao